Musica Ben ritrovati gentili telespettatori, grazie come sempre per aver scelto la nostra emittente televisiva, tante anche oggi le notizie che andremo ad approfondire nel corso di questa nuova edizione del telegiornale del Nord-Est. Apriamo con una valanga che nuovamente si è materializzata a piancavallo, pensate è la seconda nel giro di tre giorni, paura e apprensione per fortuna, insomma tutto è bene, ciò che finisce bene non ci sono state né vittime né feriti. L'Itel, ennesima invece in Borgo Stazione a Udine, viene accoltellato uno straniero, accoltellamento anche a Trieste, e poi le operazioni della polizia locale di Pordenone e Cordenons, tre patenti ritirate per guida in stato di ebrezza, e poi le truffe online, parleremo di economia, parleremo di sanità, parleremo ancora di Covid-19, con delle restrizioni che potrebbero arrivare ancora nei prossimi giorni. Adesso si valuta di rivedere il DPCM firmato da Conte, che sarebbe scaduto il 5 marzo, ma l'incubo si chiamano varianti, varianti inglesi, quella brasiliana e quella sudamericana, quella appunto sudafricana. Vedremo cosa poi andremo a trovare nei prossimi giorni, fermo restando che la situazione davvero è complessa, ci auspichiamo che quanto prima ci possa essere una seria campagna vaccinale da nord a sud. Prima però di proseguire, ovviamente, ospiti in studio attualità, prima di proseguire i saluti, le prime notizie che arrivano dal collega della redazione del Veneto, Alessio Conforti. Grazie della linea, un saluto anche dalla nostra redazione del Veneto. È imminente il confronto tra regioni e governo sul nuovo DPCM che andrà a sostituire quello attuale in scadenza il 5 di marzo. Il Veneto chiede ristori, chiede una maggiore certezza per quanto riguarda anche la comunicazione tra esperti e soprattutto maggiori forniture di vaccini, perché lo sentiremo, Zaia ha detto, ce ne sono pochi. Sentiremo i fronti ovviamente aperti. A Farra di Soligo chiusa una scuola primaria a seguito delle positività di alunni e docenti. Il sindaco della località della Marca ci vuole massima prudenza. Truffe online sempre dietro l'angolo, doppio caso invece scoperto dai carabinieri di Treviso. E poi a Portogruaro questa mattina, giornata di inaugurazione della nuova piastra ambulatoriale di Ottorino, Laringoiatria e Gastroenterologia. Sentiremo le voci, aspettiamo anche due ospiti. Linea Pordenone. Apriamo allora il telegiornale Valanga in quelle di Piancavallo e la seconda in tre giorni. Tra le altre cose il bollettino Meto aveva azzeccato e attenzione perché le criticità non sono finite. Il servizio. A Piancavallo si è staccata un'altra valanga, la seconda nel giro di pochi giorni. Aumentano le temperature e con esse il rischio di slavine in montagna. La località del comune di Aviano è stata interessata da questo fenomeno per due volte in soli tre giorni. Dopo l'evento di domenica, infatti, un'altra massa di neve si è staccata questa mattina sempre da un versante del Monte Tremol. Fortunatamente, vista la chiusura degli impianti sciistici prevista fino al 5 marzo, nessun escursionista è rimasto coinvolto. I carabinieri sciatori di Aviano, il personale del soccorso alpino e i tecnici di promoturismo sono stati impegnati tutto il giorno per mettere in sicurezza l'area interessata dalla valanga, che è stata circoscritta e risulta inaccessibile. La slavina di domenica, che si era staccata dallo stesso versante montuoso, aveva invaso la pista Salomon in prossimità del rifugio Arneri. Anche in quel caso, per fortuna, nessuno è stato colpito. Pertanto, rimarrà sotto osservazione tutta la zona dove si trovano le tre piste nazionali da sci. Si teme, infatti, in ulteriori distacchi dovuti all'aumento delle temperature, che sembrano non voler diminuire. Nell'avviso meteo diramato oggi, la protezione civile regionale ha informato che il caldo in quota previsto non consentirà il rigelo notturno del manto nevoso. Su Alpi e Prealpi, il pericolo valanche continuerà pertanto ad essere marcato. Gli addetti ai lavori saranno quindi impegnati in un'attività di monitoraggio per i prossimi giorni. Andiamo a Udine, lì in Borgo Stazione, coltellato un cittadino straniero e particolari. Sono sempre più frequenti i fatti di microcriminalità nella zona di Borgo Stazione, a Udine, nel pomeriggio di oggi in Via Roma. Si è consumata una lite tra due cittadini stranieri per cause da accertare. Due pakistani sono venute alle armi per futili motivi e presto i due sono anche venuti alle armi. Uno dei due ha tirato fuori un coltello e ha aggredito l'altro uomo, un trentenne che è ferito, è stato immediatamente soccorso dagli operatori sanitari e portato all'ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Intanto con la riapertura dei pubblici esercizi e l'allentamento delle restrizioni causate dall'emergenza sanitaria, la polizia locale di Pordenone e Cordenons ha intensificato i controlli finalizzati alla sicurezza stradale, alla tutela delle persone. Nella settimana appena trascorsa sono stati fermati numerosi veicoli e combinate diverse sanzioni per violazione del codice della strada. Due persone sono state deferite all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebrezza in quanto sottoposte al test alcolemico è stato accertato un tasso di 1,67 e 1 rispettivamente. In Viale Dante un ragazzo patentato da soli tre mesi è stato protagonista di un sinistro stradale. Per lui la prova dell'alcol test ha dato valore di 0,59, che è stata la misura sufficiente a fargli perdere 20 punti sulla patente. Quindi di fatto l'ha presa tre mesi fa e non la vede al momento più, con conseguente ritiro appunto della stessa. Un neopatentato infatti deve sempre avere un valore pari a zero. I controlli mirati dagli agenti stanno dando i loro frutti permettendo di arginare il fenomeno dilagante che vede alcuni conducenti di veicoli mettersi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche creando pericolo per loro e per tutti gli altri utenti della strada. Un uomo a coltella, un 25enne, si dà la fuga fermato vicino alla stazione. Andiamo a Trieste. I carabinieri hanno arrestato nella prima serata di ieri a Trieste un uomo originario della Tunisia responsabile di aver accoltellato un 25enne. Secondo le testimonianze raccolte dalle forze dell'ordine, il titolare di un ferramenta della zona ha visto un ragazzo davanti alla sua attività, tra via Gambini e via Manzoni, che si è accasciato a terra e che perdeva molto sangue. L'aggressore, infatti, prima di darsi alla fuga, probabilmente per regolare alcuni conti, ha colpito il 25enne con un fendente per cinque volte alla schiena che hanno causato una grave lacerazione polmonare. La vittima è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato all'ospedale di Cattinara, dove adesso è ricoverato in terapia intensiva. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia scientifica e la polizia locale che hanno chiuso la strada al traffico. I militari dell'arma sono riusciti a rintracciare il fuggitivo nei pressi della stazione ferroviaria con l'intenzione proprio di prendere un treno e rientrare in provincia di Gorizia, dove risulta essere residente. L'uomo è stato quindi arrestato e in seguito trasportato in caserma. La Procura della Repubblica di Trieste aprirà un fascicolo nei confronti dell'autore dell'accoltellamento. Parliamo adesso di truffe online che sono sempre più, diciamo, dietro l'angolo. Doppio caso scoperto dai carabinieri di Treviso. Allora andiamo nella marca. Doppia truffa scoperta dai carabinieri di Treviso. Un quarantenne di Latina è stato denunciato dopo aver indotto, mediante raggiri, una ragazza di 30 anni ad accreditargli sul conto corrente una somma di 250 euro come pagamento per l'acquisto di una telecamera senza mai consegnare quanto concordato. Nei guai è finito anche un napoletano, 57 anni, che aveva creato un sito internet nel quale proponeva polizze assicurative a cifre molto vantaggiose. Anche il soggetto, secondo quanto ricostruito dalle indagini dei militari, avrebbe indotto un cittadino turco a pagargli 727 euro su carta prepagata, rendendosi poi irreperibile. Mi metto la mascherina perché è arrivato il primo ospite. Saluto e ringrazio l'amico Alberto Cicuta, direttore di Confesercenti del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovato. Buonasera. Grazie direttore per essere in nostra compagnia. Dunque ci sono tanti argomenti da declinare, io comunque partirei dalla crisi, la crisi che voi operatori state palpando ormai da tempo, state toccando anche con grande apprensione. Ma se ci può fare una situazione, una panoramica di quello che sta accadendo in regione Friuli Venezia Giulia e soprattutto le misure sono adeguate, sono giuste, quelle che sono state prese A dalla regione, B soprattutto dallo Stato e dal governo centrale. Allora, noi ci siamo visti nel mese di giugno che avevamo presentato una nostra proposta con delle richieste che facevamo sia a livello locale, quindi comune, regione, che a livello nazionale. Diciamo sostanzialmente gli enti locali, quindi regione e comune, si sono attivati prontamente e correttamente. Però le risorse sono quelle che sono, quindi la regione ha fatto quello che poteva, lo stesso i comuni hanno messo a disposizione l'ideore esterno per aiutare le attività, eccetera. Quello che rimane è, a parte un inizio abbastanza promettente del Conte 2, quindi col decreto di liquidità, eccetera, dopodiché è venuta a mancare la continuità. È vero che ci sono stati ristori, però la crisi sanitaria è durata un po' troppo. Noi avevamo previsto nella nostra indagine che, finita la fase 1, il 20% rischiava di chiudere e se non c'erano ulteriori interventi ci sarebbe stato un 40% di attività, riferenti chiaramente alla nostra attività, quindi stiamo parlando di piccoli commercianti e artigiani, avrebbero chiuso. Il ritardo degli stori, il ritardo della cassa integrazione, il perdurare dell'incertezza sta portando i vari commercianti che vengono da noi, artigiani o anche gli stessi ambulanti che hanno grossissime difficoltà, non dico a mollare l'osso, però stanno, veramente li vedo che c'è anche una spossatezza di tipo mentale, non vedono futuro per la propria attività. Molti stanno abbandonando le attività, tanti si sono indebitati e quello che io vedo, che io noto, insomma, nei vari piani, tipo il piano di resilienza, rinascita, eccetera, non c'è nessuna attenzione per quanto riguarda le attività che riguardano la nostra associazione, quindi le piccole imprese, le micro imprese, le piccole attività tradizionali di commercio, bar, ristoranti e il turismo. La situazione per me, se non c'è uno scatto di reni da parte della politica a livello nazionale, perché ormai la regione comunque adesso sta ristorando il settore delle associazioni e dello spettacolo, però se non c'è uno scatto di reni da parte della politica, conteremo un sacco di morti all'interno delle nostre imprese. Ci sarà un passaggio probabilmente generazionale, verranno vendute le attività, però i nostri commercianti, i nostri piccoli artigiani, ritengo che siano stati un po' abbandonati, cioè la famosa distruzione creativa di draghi, facciamo morire le imprese che consideriamo zombie, però dietro a quelle imprese ci sono delle persone, delle famiglie che sono senza paracadute, non sono come i dipendenti che hanno diritto alla disoccupazione, cassa integrazione eccetera, questi si troveranno senza reddito, non potranno accedere a una serie di ammortizzatori sociali e più chiuderanno con debiti. Nella nostra relazione di maggio addirittura avevamo chiesto un rafforzamento della norma antisuicidi, renderla più facile, più agevole, per cercare di fare questo passaggio, cioè rimettere in moto, anche se uno chiude l'attività e perde l'attività, almeno lasciare la dignità di non perdere tutto, una dignità umana, e avere di che vivere e riconvertirsi in questo magico mondo che ci vogliono disegnare, in cui sarà tutto ipertecnologico eccetera. Però io la vedo male e ritengo che le associazioni, soprattutto quelle delle piccole imprese, delle micro imprese, quindi noi con commercio, con fartigianato eccetera, dovrebbero battere un po' di più i pugni a Roma per dare maggiore dignità al nostro comparto che è l'85% delle imprese di tutto il territorio nazionale, quindi non è piccolo. Senta direttore, invece oggi si parlava del comitato tecnico scientifico che sta elaborando ancora ulteriori dati, adesso si parla dell'apertura di teatri, cinema, palestre, addirittura quando ci saranno le zone bianche, ovvero quando ci saranno 50 contagi oltre ogni appunto 100.000 abitanti, regole troppo stringenti secondo lei, questo Covid ormai ha esasperato nella situazione, è reso un po' tutto più complicato. Allora di fatto attendere i 50 contagi ogni 100.000, la campacavallo che arriva a crescere, uno veramente va prima a morire che poi a riaprire. Io sono convinto che si arriverà come l'anno scorso, arriveremo dopo maggio, cioè la riapertura un attimino. Come le discoteche, tra l'altro. Come le discoteche, arriveremo, aspetteranno, adesso dal 31 marzo, poi arriveremo sotto Pasqua, allungheranno i termini per dirci no, perché dopo c'è lo spostamento da nord al sud, ci sono le varianti, poi ci sarà il 25 aprile, poi sarà il primo maggio, probabilmente ritengo che con l'estate ci sarà un calo, forse con maggio si normalizzerà la situazione. Il problema è varianti e non varianti, cosa succede a settembre prossimo, ottobre? Io sono convinto che speriamo che la campagna vaccinale vada in porto e tutto il resto, però dobbiamo un attimino accelerare perché ormai il vaccino è l'unica cosa che può salvare l'economia e salvare il salvabile soprattutto per le nostre attività che ritengono saranno più destinatari di tanti ristori, almeno così, quanto ha dichiarato Draghi e quindi cercheranno di accompagnarci. In più c'è un'altra problematica, chi chiuderà molto probabilmente verrà sostituito da altri imprenditori e c'è oggi l'allarme della DIA sull'antimafia, quindi verranno, facciamo un esempio, magari a Pordenone non succederà, però nelle grandi città, i grandi alberghi eccetera verranno o acquistati da gruppi con capitali non molto leciti oppure da soggetti stranieri, fondi sovrani, cinesi. Quindi andiamo veramente a distruggere tutto il comparto e ci sarà un passaggio di mano, benché magari rimangano in piedi le attività, ci sarà un passaggio di mano, quello che prima era intestato un cittadino italiano, anche un cittadino estracomunitario che era qua da anni, di fatto passerà di mano e anche quello è da considerare. Certo. Ci vorrebbe una golden share dello Stato che bloccherebbe questi tipi di trasferimenti soprattutto nelle grandi città d'arte eccetera perché veramente stiamo regalando il nostro patrimonio, lo stiamo svendendo. Senta direttore, lei ha citato due o tre volte almeno la figura di Mario Draghi. Yes. Ecco, che idea si è fatto insomma di questa persona che è stata accolta con i furori insomma di massa, proprio a furor di popolo, però la partenza ha già avuto dei contraccolpi piuttosto importanti, del resto lo sappiamo bene è difficile tenere unite delle teste che sono completamente diverse, storie completamente diverse, personaggi eclettici che arrivano praticamente da confini diametralmente opposti, cosa ne pensa? Allora, chi mi conosce sono abbastanza talebano in questo, cioè nel senso, Draghi, persona brava, preparata, iperaffidabile, quello che volete. Però è un professionista e un grande tecnico che si è formato in una determinata cultura, cioè non può comprendere i problemi delle micro imprese, probabilmente le ritiene inutili, infatti parla di istruzione creativa e quindi è vero che è stato consegnato il governo di questo paese a Draghi, a questo super tecnico tutti i parlamentari, tutti gli schieramenti si sono subito avvicinati per elogiarne la bravura però alla fin fine un governo politico, quindi in cui i partiti con una coesione omogenea quindi o di centro a destra o di centro a sinistra, non mi interessa, però comunque riescono a portare le istanze di tutti i cittadini. Draghi osserva dall'alto l'economia italiana, valuta, taglie, cucce, bravissimo, il problema non lo fa apposta, lui è fatto così per me, questo lo ritengo io, ogni tanto mi scontro anche con gli altri colleghi delle altre associazioni perché dico attenzione, io capisco che Confindustria veda di buon grado Draghi ma non riesco a capire come mai noi che rappresentiamo piccoli artigiani, piccole attività commerciali, Draghi si sa quello che ci darà il colpo di grazia, Monti è stato il primo poi c'è stata la crisi di Lehman Brothers, Lehman Brothers, Monti e adesso ci sarà Draghi che ci darà il colpo finale. Ah quindi lei è completamente in disaccordo con questo concetto? Sì assolutamente, perché io ho letto il piano nazionale, non c'è mai una parola commercio, solo nelle note si individuano delle forme di conversione del digitale delle attività commerciali, però tu anche se ti converti in una vendita online delle tue attività commerciali tradizionali, hai già dei competitor tipo Amazon, eBay, chiamalo quello che vuoi, che sono avanti anni luce sia in termini di dati, di profilazione dei clienti, sia in termini di logistica, di resi, di prezzo e di fiscalità, qui andrebbe secondo me adottata, ma non si può fare per via dell'Europa, delle politiche di protezione, che chiaramente però sto parlando di una cosa che purtroppo non rappresenta ormai il pensiero unico che sta correndo in giro per il mondo occidentale. Un'utopia più che una realtà. Sì, uno strumento che era normale di politica economica, di scienza delle finanze, era quella di alzare i dazi, giocare sulla moneta, eccetera, che abbiamo studiato tutti in economia, da quando è stato l'euro, tutte quelle basi tradizionali di come far funzionare la leva e dello Stato non ci sono più, sono vietate. Ci rimane moneta unica, andare online, andare a competere con gli stessi strumenti tecnologici, con costi diversi, tassazione diversa, in un mondo globale in cui siamo perdenti, diventeremo perdenti. Ci vediamo nei prossimi appuntamenti, grazie all'amico Alberto Cicuta, direttore di Confesercenti del Friuli Venezia Giulia. Grazie direttore per aver stato con noi. Grazie a voi. Ancora furti in città Udine, presi di mira un'abitazione e un'auto, un'escalation che non conosce davvero tregua. A Udine, dopo i tanti episodi verificatesi ultimamente non solo in città, ma anche nella provincia, con incursioni presso abitazioni private, fortunatamente nel momento in cui gli equilini erano fuori casa, ieri sera i ladri hanno messo a segno due colpi in città, di cui uno in dialettricesimo. Qui i malviventi sono entrati in una casa dopo aver forzato, probabilmente con un piede di porco, una porta. Hanno rovistato in tutte le stanze, trovando monili in oro e denaro contante, circa 500 euro. A dare l'allarme, una volta rientrata a casa, è stata la proprietaria dell'abitazione che era uscita per alcune commissioni. Il bottino ammonta circa 2.500 euro sul posto. Sono intervenuti i carabinieri che ora stanno svolgendo indagini per risalire agli autori del furto. Un secondo furto si è verificato in via Cantore poco dopo le 19.30. In questo caso i ladri hanno rotto il finestrino di un'automobile che una donna aveva parcheggiato lungo la via prima di dedicarsi ad alcune commissioni. Dentro la macchina aveva lasciato una borsetta con effetti personali e denaro contante. Covid-19, domani mattina il confronto regioni-governo sul piatto non solo il nuovo decreto, ma soprattutto i vaccini. Allora il presidente della regione Veneto, Zaia, ce ne sono davvero troppo pochi. Il servizio. Domani mattina il governo e le regioni si confronteranno in videoconferenza in vista del prossimo DPCM, il primo dell'era Draghi, che sostituisce quello in scadenza il 5 marzo dell'ex presidente Conte. Luca Zaia questa mattina in unità di crisi a Marghera ha puntato forte su alcuni temi. Ristori, una figura unica titolata a parlare di Covid, soprannominato speaker, e un minor scontro di opinioni tra esperti. Quindi la partita dei vaccini. Quanto ai vaccini? Noi siamo preoccupati perché dei vaccini sono pochi. Resta la mare in bocca di pensare che almeno abbiamo il dovere di andare fino in fondo nella verifica. Io spero che a livello nazionale il presidente del Consiglio, che ha strumenti e legittimazioni anche diverse se volete, anche costituzionali, lo faccia. Non è peccato verificare se chi suona il tuo campanello di casa ha la merce oppure no. Sul fronte dell'andamento del contagio l'incidenza continua a manifestarsi bassa. I positivi a fronte di 40.000 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati in Veneto 895. I ricoveri ospedalieri sono 1.379 in totale, di cui 132 in terapia intensiva. Oggi rispetto a ieri le persone uscite sono maggiori di quelle entrate nei nosocomi. Infine, sul fronte dei decessi, si viaggia verso le 10.000 unità a pochi giorni di distanza dal primo anno dell'avvento del Covid. Le vittime totali sono 9.763, 21 nelle ultime 24 ore. Restiamo in tema, saluto e ringrazio il dottor Pietro Tropeano, assessore del Comune di Pordenone, responsabile del Centro Trombosia, il Santa Maria degli Angeli. Ben ritrovato, grazie dottore. Grazie, grazie direttore. Un saluto come sempre alle amiche e agli amici che ci seguono da casa. Io direi di rimanere in tema e poi magari, chiusa finale, facciamo anche una puntualizzazione in merito alla sua campagna elettorale che qualcuno dice, Movimento 5 Stelle, dice che lei sta facendo, utilizzando il capo. E' tutto un altro discorso, parliamo di cose serie, dopo parliamo delle cose banali. Allora, la situazione di oggi, diciamo che ci lascia un po' perplessi rispetto ai giorni scorsi, l'indice dei contagi è salito, è salito nel senso che non siamo più a livello del 4% solito, ma abbiamo superato il 5%. Su quasi 10.000 esami eseguiti, 9.612 esami cumulativi, tra tamponi molecolari 5.900, test antigenici 3.700, abbiamo avuto un indice di positività medio del 5.10%. Questo ci dice che il virus sta continuando ancora a correre nella nostra regione. I decessi sono per fortuna stazionari, siamo ancora a 10, l'occupazione posti letto è stazionaria, ci manteniamo stabili in regione sui 400 posti letto, le rianimazioni comunque hanno il peso maggiore, sono quelle maggiormente occupate. Anche a Pordenone abbiamo un'occupazione posti letto in calo, siamo un'occupazione posti letto di circa 50 posti occupati da pazienti con Covid o patologie Covid correlate. Un altro indice che ci mette un po', fra virgolette, ci dà un po' da pensare, sono le persone in isolamento, le persone in isolamento, cioè quelle lì che hanno contratto o si suppone abbiano contratto il Covid, sono aumentate rispetto a ieri di 150 unità, siamo arrivati a quasi 9.000 persone. Questi dati ci inducono a fare due riflessioni. Primo, dobbiamo ancora mantenere alta la guardia, non siamo usciti da niente, anche se stiamo intravedendo la luce con i vaccini di cui si è parlato fino adesso, però ancora i vaccini tardano ad arrivare, questo è il punto, perché per quanto riguarda il fare i vaccini, lo stiamo facendo, li stiamo facendo a tutte le categorie, l'abbiamo iniziato con i sanitari, quasi tutti i sanitari sono stati vaccinati. Io ho fatto l'ultima vaccinazione proprio ieri, non ho avuto niente, sono qui con voi, sto parlando. Poi siamo passati agli over 80, adesso passeremo al personale della scuola, alle forze dell'ordine, ai militari, poi passeremo ai pazienti, fra virgolette, delicati e quindi verranno praticamente tutte, tutta la popolazione. Questo naturalmente è stato già previsto, però naturalmente dobbiamo avere i vaccini, perché se non ci sono i vaccini in quantità sufficiente rischiamo di non poter andare avanti, di non poter seguire quello che abbiamo programmato. Quindi vaccinazione, vaccinazione, vaccinazione. Altro secondo momento che ci porta questi dati di oggi sono quelli di mantenere alta la guardia, quindi non dobbiamo assolutamente distogliere la nostra attenzione sulle misure che abbiamo adottato fino adesso. Distanziamento, evitare gli assembramenti, igiene delle mani e dei luoghi dove abitualmente lavoriamo o viviamo e naturalmente questa qui, mascherina. La mascherina ci si deve sempre accompagnare, la togliamo nei momenti in cui è necessario toglierla, nei momenti in cui prendiamo un caffè, beviamo o mangiamo, però quando conversiamo con altri che abbiamo di fronte, quando sediamo e conversiamo assieme ad amici o a conoscenti, manteniamola sempre. È un presidio indispensabile. Abbiamo visto quanto è servita la mascherina, soprattutto per il virus influenzale. Nessuno, quasi nessuno ha avuto l'influenza proprio per la mascherina, quindi capiamo l'importanza della mascherina proprio da questo. Vuole chiudere in bellezza, ma più che in bellezza diciamo in bruttezza. Io sono rimasto veramente stupito, amareggiato, ma anche perplesso di fronte alla bassezza e alla mischinità di alcuni personaggi. Un tal Lorenzini che io non ho mai conosciuto, mai visto, gli è stato messo in bocca di dire che io non devo apparire in pubblico col camice, col mio vestito di lavoro. Io sono un medico, sono prima di tutto un medico e quando parlo e sono in ospedale, sono nel mio reparto, parlo col mio camice. Se lei, Lorenzini, non vuole vedermi o lei o chi per lei che sta dietro di lei, non mi vede, spegne o va via dai social. Mi dispiace per lei, ma mi vedrà da qui fino alla fine, mi vedrà tante volte. Quindi cerchi di stare tranquillo, Lorenzini, se vuole ci beviamo anche in confe insieme e le spiego come funziona. Questa ovviamente era la chiusa riguardo all'attacco che il dottore Tropeano ha subito dal Movimento 5 Stelle di Ford, non relativamente, loro dicono la campagna elettorale. Io non sono in campagna elettorale, io lavoro, io non so cosa faccia lei, ma io di solito oltre a fare l'assessore faccio anche il medico e lo faccio anche nel reparto Covid. Oltre a fare il medico e farlo nel reparto Covid ogni sera faccio un comunicato, do le informazioni su come va tutta la vicenda. Capisce? Se lei non lo vuole vedere, ci sono migliaia di persone che lo vogliono vedere, quindi stia zitto, taccia e non si faccia dire le cose dagli altri. Senta, invece, le volevo proprio fare un'altra chiusa, una battuta finale relativamente alla cultura, il difficile periodo che il mondo della cultura sta attraversando. Questo è veramente un argomento serio, che supporto possiamo dare a questo mondo? Allora, lunedì sera, come lei saprà, abbiamo fatto una manifestazione, facciamo luce sul teatro. I teatri, ma non solo i teatri, sono gli spazi culturali che stanno soffrendo di più, naturalmente, a tutti gli operatori della cultura che stanno dietro. È un momento difficile, è un momento in cui tutti noi paghiamo il peso di questo, noi, la città, tutto quello che li circonda, siamo in questo momento privati di un bene essenziale, oltre naturalmente al cibo, altre cose, la cultura per noi rappresenta veramente un momento indispensabile. Allora, secondo me, bisogna fare anche qui delle riflessioni, io le faccio naturalmente, tranquillamente, come giustamente è corretto pensare che modulando alcune situazioni anche dei ristoranti o delle altre, diciamo, degli altri posti pubblici, probabilmente si può permettere una situazione un po' più gradevole all'esterno, sempre nel rispetto di tutte le misure. Credo che anche modulando in qualche modo gli spazi culturali, mi riferisco ai teatri o ai cinema, magari permettendo una o due giorni alla settimana, con tutte le misure del caso, si può dare anche un momento di vitalità a questo comparto che sta profondamente soffrendo, come del resto tutti gli altri del mondo economico, di questa terribile situazione, che spero presto, con l'arrivo dei vaccini, possa veramente andare via. Dottore, una curiosità, io vengo da casa, ma perché il dottore Tropeano ha fatto il vaccino se hai già avuto il Covid? Io l'ho fatto per ultimo, infatti il fatto di aver fatto qui il vaccino. Il vaccino è previsto anche per quelli che hanno avuto il Covid. Lo si fa normalmente come c'è stato consigliato alla fine di tutto, alla fine di tutti, per dare la possibilità a chi non ha avuto il Covid di farlo in tempi ristretti. Quindi noi, coloro che hanno avuto il Covid, noi siamo stati gli ultimi, siamo gli ultimi, tuttora c'è anche qualcun altro che lo sta facendo, siamo gli ultimi ad essere vaccinati e mi sembra corretto che sia stato fatto così. È giusto che anche noi, anche perché il vaccino ci dà il fatto di aver avuto il Covid, ci dà un'immunità temporanea di un paio di mesi, due, tre mesi, ma dopo siamo scoperti e soprattutto per chi deve lavorare a contatto con i pazienti Covid positivi, non è bello. Grazie dottore, ci vediamo la settimana prossima. Grazie direttore, un saluto alle amiche e agli amici che sempre ci seguono da casa. Sicuramente un abbraccio virtuale a tutti. Intanto a Farra di Soligo chiusa una scuola primaria, tutte le classi in quarantena, il sindaco invitiamo tutti alla massima prudenza. Un'intera scuola chiusa con tutte le classi in quarantena. È quanto succede a Farra di Soligo alla primaria Ancillotto, dopo i tamponi effettuati in due classi terze dell'istituto. Dai test sono emersi infatti 16 positività tra gli alunni e un caso anche tra i docenti. I controlli sono scattati dopo che nel corso dell'ultimo weekend tre alunni e un docente sintomatici erano risultati positivi al tampone. Considerato l'elevato numero di casi riscontrati e valutato l'andamento epidemiologico, l'azienda sanitaria ha posto precauzionalmente in quarantena tutte le classi del plesso scolastico, inviando immediatamente studenti e personale a effettuare il tampone per la ricerca del virus, con verifica ulteriore alla fine della quarantena. Tutti i locali della scuola saranno inoltre sottoposti a sanificazione. Il sindaco della località trevigiana, Mattia Perencin, predica prudenza. Sì, ieri l'azienda sanitaria, a seguito della positività di diversi bambini di alcune classi della primaria di Soligo, ne ha disposto in via preventiva la chiusura per cercare di capire quella che era la situazione e la luce della numerosità dei contagi che c'è stata. Attualmente, nella giornata di oggi e nella giornata di domani, il personale scolastico e i bambini andranno a farsi i tamponi e dopo di che la scuola rimarrà chiusa fino al 5 di marzo. Quindi sono anche io in attesa di capire quale è l'evolversi della situazione, l'esito degli ulteriori tamponi che sono stati fatti, perché poi ovviamente l'azienda sanitaria insieme con l'amministrazione e anche la disidenza scolastica deciderà quello che dovrà essere fatto. Quindi rimaniamo in attesa da qua alle prossime ore di quella che è l'evolversi della situazione. Ecco, quanti sono sindaco i contagi totali a Farra di Soligo e soprattutto qual è l'invito che fa la popolazione? Allora, i contagi per quanto riguarda gli studenti, che sono quelli che ci hanno subito preoccupato, è stata la numerosità di 16 bambini e almeno un paio di insegnanti, però questo è un dato che non era ancora definito ieri sera perché era un dato di partenza, quindi appunto, ripeto, siamo in attesa dell'esito degli ulteriori tamponi. La situazione era buona, nel senso che rispetto ai mesi di novembre, dicembre e gennaio, come è successo poi in tutti i comuni che abbiamo avuto degli aumenti esponenziali, nelle ultime settimane invece c'era un trend molto basso, tant'è che eravamo arrivati ad avere da 5, massimo 9 casi negli ultimi giorni. Quindi sicuramente una situazione che era in via migliorativa, questa non ci voleva e vedremo adesso rivolgersi nella situazione. Andiamo in Veneto perché, come abbiamo sentito ieri, oltre al Covid a Chions c'è stata insomma questo inizio di infezione da aviari alla malattia dei polli con 20 capi abbattuti e misure di sicurezza anche che riguardano i comuni limitrofi, tra i quali il comune di Cinto, Caomaggiore. Abbiamo il suo sindaco Gianluca Falcomeri in compagnia di Alessio Conforti, a voi la linea. Grazie con Gianluca Falcomeri, sindaco di Cinto Caomaggiore, ne abbiamo parlato anche ieri sindaco, ma l'influenza aviaria dopo il caso di Chions ha identificato il territorio di Cinto come una zona di sorveglianza. Quali le ultime, qual è la situazione di oggi e quali le ultime notizie che può darci merito? Per quanto riguarda la notizia importante è che il focolaio è stato estinto, quindi la parte dove si è generato è stato tolto il problema. Noi il territorio di Cinto è tra il terzo e il decimo chilometro di raggio dal focolaio, ciò significa che vanno assunte una serie di accorgimenti che sono finalizzati alla protezione sostanzialmente dei propri pollai. Quindi abbiamo fatto massima comunicazione persino ai cittadini per dire attenzione, l'importante è fare in modo che le mangiatoie dovevano ad avverarsi polli, ma comunque tutti gli animali da partire classico, l'importante è che siano protetti, meglio ancora se gli animali sono tolti dal contatto direttamente con il cielo e quindi questo permette di avere maggiore sicurezza. Ma bisogna stare comunque attenti per un altro motivo, siamo nel periodo delle migrazioni, ci sono uccelli che dalla Russia stanno scendendo e questo fa provocare questo tipo di contagi non è un'infezione che c'entra con l'attuale pandemia, sono in realtà dei cicli virali che accadono ogni tuo tempo, non è la prima volta che accade un'epidemia di aviaria, ho scartabellato, ho verificato ad esempio con le mie risorse per capire, ecco l'aviaria alla fine è già sempre stata, mi ricordo che c'è stato un periodo in cui è stato anche molto più tacchente, è stato un periodo in cui addirittura sono stati coperti, c'è addirittura il problema che da una parte, in una regione c'era una tutela un po' più blanda e nell'altra c'era il nostro comune che a confine si trovava a avere dei pollani militarizzati rispetto agli altri che erano un po' più liberi, ecco ci sono stati periodi sicuramente più duri, l'importante è aver individuato il focolaio e averlo gestito. Il nostro territorio... Anche ve lo ho comunicato sindaco perché non si fa allarmismo però una comunicazione veloce anche grazie alle tecnologie, so che voi anche tramite i canali telegram, whatsapp, insomma si circoscrive il problema e si permette anche di intervenire. L'importante è esatto, in questi casi come tutte le infezioni e come lo ricordo sempre anche per il coronavirus, prima si hanno sintomi, prima si ha manifestazioni e accortezza di un qualche problema, prima si agisce, prima si circoscrive e prima si abbatte il problema. Assolutamente, a proposito, approfitto anche della presenza sua come faccio anche con alcuni suoi colleghi per fare un flash veloce sulla situazione Covid nel suo paese. La situazione in realtà si sta un po' incrementando e questo non è un dato che mi sta dando grande soddisfazione, anzi la preoccupazione è che questa poter fondata effettivamente non sia più una tanto prospettata situazione, ma che sia reale. Esatto, qualche giorno fa abbiamo chiuso una sezione dell'asilo, quindi effettivamente il problema c'è. Io non vorrei addirittura che le temperature di questi giorni si stanno aumentando sempre di più, provocano un alleggerimento dell'attenzione da parte dei cittadini, è molto pericoloso. C'è un aspetto anche interessante che voglio sempre sottolineare, quando si va a casa di amici, quando si va a casa di parenti è normale essere un po' più sollevati rispetto alle misure da adottare per proteggersi, credo che sia assolutamente normale. ecco, se andare a bere un caffè, andare a bere uno spritz, muoversi è sicuramente più sicuro nella misura in cui i nostri locali ormai sono più che strutturati per gestire una situazione di questo tipo e proprio quando andiamo in giro per le case ci troviamo in maniera più familiare che il pericolo diventa maggiore. Quindi l'invito che faccio a tutti i miei cittadini è questo, attenti a non sottovalutare quello che sembra più sicuro, intimo e protettivo. Grazie Gianluca Falcomare, sindaco di Cinto Camaggiore e tra l'altro presidente anche della conferenza di sinistra del Veneto Orientale. Linea a Pordenone. Grazie. Parliamo di scuole, è pronta la palestrina della Lozzer, interventi anche in altri edifici, ridipintala dei amici, sei sistemata la Gabelli, quindi il tutto a Pordenone. È pronta la palestrina della scuola Lozzer di Torre. L'inaugurazione ufficiale avverrà nei prossimi giorni. Questa struttura è parte di un progetto per cui il comune di Pordenone ha recuperato 10 milioni di euro che prevede la costruzione del nuovo edificio scolastico. Il prefabbricato appena realizzato è posizionato tra la Lozzer stessa e la Beato Dorico e potrà essere utilizzato in via provvisoria quando comincerà la demolizione della vecchia palestra per fare spazio a quella nuova. La direzione del progetto prevede comunque, una volta realizzata la palestra omologata CONI, di mantenere il prefabbricato di 21,8 per 8 metri, così che la scuola possa avere un impianto sportivo principale e uno secondario di ripiego. Nelle prossime settimane saranno completati gli interventi anche in altri edifici scolastici. Per marzo è infatti prevista l'inaugurazione della primaria Gabelli, con un edificio che è stato consolidato per poter resistere al terremoto grazie ai lavori di adeguamento e tenuta sismica eseguiti nelle fondamenta e nel sottotetto. Nei prossimi giorni la scuola di Amicis di Borgo Meduna prenderà nuovamente vita grazie ai lavori di ritinteggiatura degli esterni e alla sistemazione dei serramenti e degli intonaci degradati. Il sindaco Alessandro Ciriani e l'assessore Walter De Bortoli hanno commentato positivamente gli interventi svolti. Quando siamo arrivati abbiamo trovato un patrimonio comunale che aveva assoluto bisogno di sistemazioni e ristrutturazioni, hanno detto i due amministratori locali. Sulla scuola abbiamo investito 4 milioni in più ogni anno rispetto al passato, dirottando le risorse sull'edilizia, sull'offerta formativa e sulle dotazioni di tecnologie in linea con la didattica di oggi. Mettere in sicurezza le scuole e renderle confortevoli, hanno poi concluso, deve essere imperativo per le amministrazioni comunali. Ad un anno dal primo lockdown, mi ricordo perfettamente l'anno scorso quando il sindaco la città di San Vito al tagliamento diede il desteriga. Basta, chiuso tutto, si deve insomma fare questo lockdown che poi è andato avanti a oltranza, sfinendo anche giustamente la popolazione non soltanto locale ma quella nazionale. Il primo vero lockdown ce lo ricordiamo tutti. A San Vito al tagliamento si ricorda un po' questa ricorrenza. Io saluto e ringrazio Federica Fogolin, vice sindaco attuale, candidata a sindaco per centrosinistra e le civiche. Innanzitutto ben ritrovata. Ecco, so che insomma la memoria non dimentica determinate situazioni e so che insomma a San Vito questo ricordo è più che mai vivo. Come? Sì, proprio a un anno domani, il 25 febbraio, ricorre un anno in cui l'amministrazione comunale decise di annullare gli eventi in programma, era martedì grasso quindi la piazza si sarebbe riempita inevitabilmente di bambini, di famiglie e la decisione fu drastica, chiudere e annullare tutti gli eventi. Questo significò per San Vito entrare in lockdown. Ecco perché abbiamo ritenuto importante domani promuovere un'iniziativa a un anno di distanza per innanzitutto ricordare, ricordare le vittime di Covid-19 di San Vito, per far riflettere, ruttare a riflettere quanto ha impattato la pandemia e quali sono stati le conseguenze della nostra vita, ma soprattutto per sottolineare l'impegno per il futuro. Io vedo la pandemia che c'è anche, no? Sì, perché l'impegno per il futuro, dicevo, perché è importante che noi sottolineiamo quello che la pandemia ci ha consegnato e quindi un rinforzamento, un rafforzamento delle strutture sanitarie, dalla cura per i presidi ospitalieri alla prevenzione per il sistema territoriale di medicina di territorio. Ricordiamo che proprio il Presidente del Consiglio, Draghi, per la prima volta nel suo discorso al Senato, ha citato l'importanza dei consultori e dei centri di salute mentali. Questi sono i primi esempi, ma non gli unici, di servizio territoriale. Se funzionano, ne abbiamo tutti e ne ricaviamo assolutamente un beneficio. Ecco perché... Come sindaci e come amministratori so che vi siete riuniti anche, no? Recentemente per dire azienda sanitaria non toglierci davvero dei presidi importantissimi per il territorio, no? Assolutamente. La pandemia ci ha consegnato proprio questo messaggio, che i servizi territoriali devono essere assolutamente potenziati. Per far ciò, noi sindaci, soprattutto dell'ambito, stiamo portando avanti col territorio e con iniziative questa nostra intenzione di sollecitare sempre e maggiormente l'azienda sanitaria, ma anche la Regione, affinché siano messe tutte le risorse necessarie per potenziare questi servizi. Ecco, vedo che c'è un altro luogo in via. Sì, sì. Credo ci sia anche... Perché un'altra fetta della popolazione per noi importante è quella dei ragazzi, dei bambini e dei ragazzi. Ecco perché ci siamo interrogati, lo abbiamo fatto insieme all'assessorato, alle politiche giovanili e insieme alle associazioni, perché i genitori ce lo stanno chiedendo, ci stanno chiedendo un aiuto su come affrontare questo cambiamento che è impattato molto forte sui bambini e sui ragazzi. Lo facciamo lunedì sera in un evento che verrà trasmesso in diretta sul canale YouTube del Comune e insieme a un nostro amico, possiamo considerare il dottor Alberto Pellaio, uno psicoterapeuta di fama nazionale, ha molto lavorato in tutto questo periodo della pandemia e lo chiameremo per porre a lui le domande e le perplessità e le paure dei genitori, dei nostri ragazzi. Grazie allora, come sempre, a Federica Fogolì, candidata a sindaco per il Comune di San Vito a Tagliamento. Ci vedremo nei prossimi appuntamenti. Grazie, direttore. Magari la prossima volta parleremo anche di elezioni sposate sì e elezioni sposate no, perché questo è un vero dilemma no, che tra le altre cose se si vota a maggio, è un conto, se si vota poi a settembre, a ottobre, come sembra, bisognerà un po' rivedere tutti i cani, ma sarà magari pane per la prossima settimana. Grazie veramente a Federica Fogolì. All'ospedale di Portogruaro, un'area nuova per la gastroenterologia e l'otorino-laringoiatria, questa mattina il taglio del nastro. Nuova piastra ambulatoriale all'ospedale di Portogruaro, ultimati i lavori al piano terra per la nuova area dedicata alla gastroenterologia e all'otorino-laringoiatria. In una superficie di 250 metri quadrati, con accesso adiacente al cup, sono stati realizzati ambulatori, una sala endoscopica, servizi igienici per l'utenza e una zona d'attesa. L'intervento è stato realizzato grazie a un investimento di oltre un milione di euro. Che cosa aggiunge di importante questa piastra ambulatoriale? Questa garantisce servizi migliori. Per quanto riguarda l'otorino, passiamo da due a tre ambulatori completamente attrezzati in maniera innovativa con le ultime tecnologie. Inoltre abbiamo questa nuova piastra per la gastroenterologia che finalmente ha spazi nuovi e modernissimi e questo ci permette di non dover più portare i pazienti a San Donato di Piave perché attualmente era chiusa la gastroenterologia. Questo è sicuramente un miglioramento del servizio per i cittadini e quindi andiamo ad aumentare anche l'offerta in questo tipo di attività. È una ristrutturazione di 250 metri quadri di una parte dell'ospedale che non era prima utilizzata, un investimento di circa un milione e cento mila euro, quindi un altro tassello importante per la riconferma di questo ospedale quale punto di riferimento della sanità non solo del Porto Uerese e del Veneto Orientale ma anche, diciamo così, di tutto il territorio della bassa friulana. Questa mattina al taglio del nastro anche il sindaco di Porto Gruaro, Florio Favero che parla di ulteriore miglioramento per il nosocomio cittadino. È un tassello importante per Porto Gruaro, per il mandamento e per la cittadinanza. È un tassello che dimostra quanto la Regione Veneto e l'ASL4 portano l'attenzione per i bisogni delle persone. È una piastra altamente specializzata, con bravi primari e questo dimostra che c'è voglia di far crescere questo ospedale che diventerà l'ospedale centrale per la bassa friulana e per il Veneto orientale. Hanno già investito dal punto di vista economico la Regione Veneto 60 milioni per un ampliamento e quindi ci saranno grandi opere, grandi specializzazioni e questo, ripeto, è un bene per il nostro territorio. Nel 2019, prima dell'avvento del Covid, la gastroenterologia di Porto Gruaro ha erogato oltre 2.500 esami endoscopici, di cui 1.500 colonoscopie e circa 200 visite. Sul fronte dell'Otorino-Laringoiatria invece le prestazioni sono state oltre 9.000. Il ruolo del presidio ospedaliero assume ancora più valenza dunque nei confronti delle cosiddette fughe verso il vicino, Friuli-Venezia-Giulia. Sì, è un proseguo di vari investimenti, di parecchi soldi che iniziando io 5 anni fa con la mano sulla spalla del Presidente Zaia abbiamo iniziato a dare a questa ASL un po' di respiro, un po' di sollievo nel senso di dargli dei fondi. I fondi sono stati appunto dati, l'ASL è viva, sta migliorando. Questa è un'area di confine, un'area di confine dove il Presidente Zaia ha sempre detto e ha mantenuto dobbiamo fare barriera e quindi la barriera non è una cattiveria verso il Friuli ma è un servizio verso i nostri cittadini e verso i cittadini magari che dal Friuli, prima avevamo i nostri cittadini che andavano in Friuli adesso abbiamo il Friuli dei cittadini vicini che vengono qua. Quindi un servizio doppio, un servizio nel quale andiamo orgogliosi io personalmente anche col lavoro fatto in quinta commissione in questi anni. Ci arriva adesso proprio la nota, ringrazio il consigliere regionale Alfonso Singh che me l'ha mandato piancavallo, un patrimonio dell'intera comunità sia porderonese che regionale, proprio per questo l'amministrazione regionale sosterrà ogni iniziativa volta alla valorizzazione del polo turistico della destra a tagliamento con una nota congiunta ai consiglieri regionali della Lega, Ivo Moras, Polesello, Turchette e Singh rispediscono al mittente quelle che considerano le strumentali accuse dell'opposizione del Partito Democratico. In consiglio comunale ad Aviano siamo vicini, affermo in una nota i consiglieri regionali al difficile momento che stanno attraversando gli imprenditori, i professionisti del settore montano e ci faremo promotori presso tutte le sedi opportune affinché questi operatori possano ricevere nel più breve tempo possibile dallo Stato i ristori causati dal lungo lockdown. Per il comprensorio alpino del piancavallo e le anesse zone turistiche prosegue la nota del carroccio. Abbiamo proposto alla regione investimenti importanti che condivisi col sindaco di Aviano possono generare una spinta positiva per il turismo e l'economia del territorio. Ovviamente questa è la nota che la Lega ci ha direttamente inviato. Mi rimetto la mascherina perché saluto e ringrazio il dottor Valerio Delle Fratte candidato a sindaco per il comune di San Vito al tagliamento ovviamente appoggiato dal centrodestra. Ben trovato. Ben trovato a lei Dottore. Grazie dottore. Nuovo regolamento sul mercato settimanale. Se ne parla da tempo? A che punto siamo? Sì, se ne parla da diversi anni. È un argomento che io ho portato nella commissione che presiedo varie volte. Ultimamente l'assessore e la giunta comunale ci hanno fatto sapere di aver completato un lavoro nel quale siamo stati poco coinvolti per volontà dell'attuale maggioranza e quindi siamo stati chiamati a vedere, ieri abbiamo avuto la commissione, a leggere quello che è stato fatto per quanto riguarda questo nuovo regolamento. Il regolamento di San Vito era molto datato, era oramai fuori legge perché sono uscite poi nel frattempo tutta una serie di normative sia regionali che nazionali che lo rendevano di fatto non più applicabile. Quindi bene che sia stato fatto naturalmente il nuovo regolamento, è sulla scia di tutti i regolamenti nuovi che sono stati redatti anche recentemente negli ultimi anni, negli ultimi mesi, addirittura come quello di Pordenone, come quello di altri comuni anche più grandi, quindi nulla di particolare sul regolamento stesso. Quello su cui bisognerà ulteriormente lavorare anche dopo l'approvazione di domani in Consiglio Comunale di questo regolamento è sulla definizione dei criteri per fare la graduatoria degli spazi da assegnare. Perché su questo credo che ci siano ancora dei contenziosi da risolvere perché purtroppo molte volte all'interno degli archivi comunali manca della documentazione e gli stessi ambulanti non hanno magari più la documentazione probante della loro posizione nella storia e quindi è necessario arrivare a una definizione che sia da una parte tenga conto di quella che è la storia anche commerciale della persona, dell'ambulante, sia dall'altra parte possa essere inattaccabile dal punto di vista giuridico per tutelare naturalmente l'ente in questa assegnazione. Perché naturalmente ci sono degli interessi economici che vanno tutelati e vanno tutelati alla luce di diritti effettivamente posseduti. Io credo che in tutto questo l'aspetto più importante anche da tenere in considerazione sia la nuova planimetria perché si è deciso, ripeto senza confronto con noi, di mantenere l'attuale disposizione anche su via Roma che era provvisoria in occasione dei lavori su via Malteo perché non si ritiene che ci siano altre aree del comune per poter estendere il mercato. Questa estensione ovvio è obbligatoria perché aumentando le distanze fra i vari banchi per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso, ricordiamo le polemiche negli anni e tutte le segnalazioni che erano state fatte perché non passavano i vigili del fuoco, perché non passava l'ambulanza e via dicendo. Quindi adesso si mette mano finalmente a questi anche passaggi di sicurezza, però questo richiede naturalmente di allargare il mercato. Per quanto ci riguarda, per quanto mi riguarda, ci sono altri spazi, c'erano altri spazi da considerare, soprattutto se si pensano e se si dà attuazione alla creazione di percorsi all'interno del mercato stesso, io credo che si possano diventare ambiti anche delle aree che attualmente magari non sono commercialmente così appetibili. Mi riferisco per esempio alla fine di via Sarpi con il percorso all'interno del parco e una parte del parcheggio Pascatti, la stessa piazzetta Statron. Dato che bisognerà individuare comunque anche delle aree, per esempio per gli agricoltori, per i coltivatori diretti da destinare per la loro vendita, per la loro esposizione, spero che tutte queste aree vengano comunque tenute in considerazione, visto che la loro attività è fondamentale. Ulteriore consiglio, che vorrò anche domani in consiglio comunale, è quello di illustrare, soprattutto nei primi periodi, alle persone che accedono al mercato la nuova disposizione, disposizione perché è fondamentale far capire alle persone dove troveranno, perché potrebbero essere cambiati i nuovi banchi, diciamo nella nuova disposizione e soprattutto indicare anche dei percorsi. Mi aspetto anche qualcosa di più sui punti di raccolta, per esempio, su tutta una serie di questioni che negli anni sono state veramente molto molto trascurate. Ieri per fare un esempio ho accennato agli stalli per le biciclette, ma insomma mi sembra il minimo sindacale da poter garantire alle persone che devono lasciare la bicicletta perché non si può andare nel mercato in sella alla bicicletta. Dottore, abbiamo ancora pochissimi istanti, voglio proprio riservarli alla sua presentazione, ormai un volto noto della nostra emittente televisiva, ma Valerio Delle Frate si presenta pubblicamente, ovviamente nel rispetto delle norme anticorpi, quindi per una cerchia ristretta di persone, sabato mattina a partire dalle 10.30 all'Arrigoni, al Teatro Arrigoni a San Vito, ovviamente noi ci saremo perché ci sarà non soltanto la presentazione del candidato a sindaco, ma ci saranno anche poi diversi rappresentanti delle varie liste, simpatizzanti, ma soprattutto arriveranno i cosiddetti big, i politici che effettivamente ci rappresentano sia a livello regionale che nazionale che europeo. Che presentazione sarà? E soprattutto poi domanda dalle domande, è meglio andare a votare a maggio o procrastinare fino a settembre e ottobre per quanto riguarda le elezioni? Guardi, parto dall'ultima domanda perché naturalmente per quanto mi riguarda ogni mese che passa in più è un mese concesso all'attuale maggioranza di spendere fondi pubblici, di fare investimenti sui quali magari noi non siamo d'accordo e che vorremmo in altro modo appunto destinare. Quindi per me prima si vota e meglio è. Noi siamo pronti, quindi siamo pronti ancora da qualche anno fa. La seconda domanda è quella della presentazione. Sarà una presentazione io spero gradita appunto a chi parteciperà anche in streaming, perché verrà naturalmente trasmessa sul canale YouTube, su Facebook, insomma su tutti i canali che oramai siamo soliti usare per questo tipo di appuntamenti. Spero che questa presentazione dia l'idea dell'attenzione che finalmente c'è e ci sarà su San Vito anche da parte delle superiori istituzioni. San Vito negli anni purtroppo è sempre stata considerata un po' abbandonata e lasciata ad altri partiti, ad altre amministrazioni. Questa volta credo che la presenza anche di alcune personalità darà l'idea di quello che ci si attende sui per San Vito nei prossimi anni. Dottore grazie, come promesso noi sabato ci saremo. Allora ci ritroveremo in quel di San Vito. Grazie intanto a Valeria Delle Fratte, candidato a sindaco. Grazie per essere stato in nostra compagnia. Un 31enne originario di Aquileia, processo, è stato accusato di violenza su una minorenne. Nella giornata di ieri, martedì 23 febbraio, l'avvocato di Elia Noncent, 31enne originario di Aquileia, ha presentato al giudice un fascicolo di indagine difensiva contenente una serie di dichiarazioni di persone e conoscenza dei fatti. L'accusa riguarda i fatti avvenuti a Cormonsa all'interno di un'abitazione tra il 9 e il 12 aprile del 2018. I reati di cui dovrà rispondere sono quelli di violenza sessuale nei confronti di una minorenne. Le indagini erano incominciate dopo la richiesta di intervento da parte delle forze dell'ordine della madre della giovane. Era rientrata in casa in stato confusionale, situazione che si è poi protratta per altri due giorni dopo che aveva trascorso il fine settimana con il 31enne. La madre era stata costretta a chiamare il 118 per farla ricoverare e dargli accertamenti effettuati. Era emerso che si trovava sotto effetto di sostanze stupefacenti. L'uomo è quindi ritenuto responsabile della cessione di sostanze quali anfetamine, ecstasy e marijuana, oltre al reato di violenza sessuale. Un episodio che si sarebbe ripetuto tre volte senza il consenso della ragazza. La difesa ha dichiarato come i fatti legati alle sostanze stupefacenti non siano quelli presentati, in quanto la ragazza ne facesse uso già da tempo. A stabilire il sussistere del quadro accusatorio proposto dal sostituto procuratore di Gorizia sarà il GUP del Tribunale Isontino, Carlo Isidoro Colombo, nel processo con rito abbreviato che sarà celebrato il prossimo 26 maggio. Salute e ringrazio l'amico Marco Cavallaro, segretario cittadino quindi a Pordenone del Partito Democratico. Dottore ben ritrovato, grazie per essere nuovamente con noi. Buonasera, grazie a lei, grazie ai telespettatori. Mai più fascismo e nazismo raccolta firme che si terrà sabato mattina proprio in centro a Pordenone. Perché questa iniziativa? Prego, prego. Mostro la locandina. Esatto, noi siamo in piazza sabato, mai più fascismo e nazismo. È una raccolta firme, è il secondo giorno che siamo in piazza, siamo già stati sabato scorso per raccogliere le firme a supporto di questa proposta di legge popolare contro la propaganda fascista e nazista. Nasce, è stata promossa dal sindaco di Sant'Anna di Stazzema, città che è stata colpita nel 44 da un gravissimo fatto storico. Da quella città, dal sindaco nasce questa proposta perché, io le voglio raccontare il perché tra l'altro io ho aderito a questa proposta e quando ho deciso di aderire. Ho aderito il giorno in cui ho letto sul giornale che il fatto avvenuto in Liguria in cui un consiglio comunale, alcuni consiglieri comunali hanno votato facendo il saluto romano, questo fatto è stato così, passato in cavalleria dicendo ma sì è una goliardata. Io in quel giorno lì ho deciso che questa non è una goliardata, ho deciso quindi di aderire a questa proposta perché secondo me questi fatti non possono essere fatti passare così con un colpo, definendoli proprio una goliardata, ma debbano essere puniti. In questo momento non è che non è fattibile perché ci sono anche gli strumenti sostanzialmente per farli, ma alcuni fatti tra cui questi, tra cui anche invece la presentazione di alcuni simboli per esempio online, cosa che sta avvenendo, sta dilagando online la propaganda fascista e nazista, tra l'altro tra i giovani il problema è questo, che tanti giovani non si rendono conto, lo fanno con leggerezza, cosa che non deve essere fatto e non sanno invece in che cosa vanno incontro, tra l'altro storicamente forse non conoscono che cosa stanno facendo. Per cui questa legge qui secondo me è necessaria, bisogna raccogliere circa 50, anzi no circa, 50 mila firme entro il 31 marzo per poterla discutere poi in Parlamento, noi stiamo dando una mano, se avremo in piazza, piazzetta Cavour, dalle 10 alle 12 e 30 a raccogliere firme. Si può anche, tra l'altro dico, si può firmare comunque in qualsiasi comune andando all'urto. Senta dottore, lei citava i giovani, perché i giovani si fanno più di tutti manipolare e soprattutto anche, diciamo così, raccontare delle mezze verità, perché giustamente insomma se uno poi aderisce al nazismo e al fascismo vuol dire insomma che non ha ben chiara quella che è stata insomma la storia, perché proprio loro diciamo rievocano un passato che invece dovrebbe essere cancellato non dai libri, perché giustamente la storia è quella che ha caratterizzato l'Europa e il mondo, ma cancellato dalle menti di ognuno in modo tale che magari certi episodi non s'abbiano più da riflettere. Ma sa direttore, questa è una domanda molto complessa. Mi viene anche in mente un dato, un dato che è stato certificato, è quello che una persona su 5 non crede alla Shoah. Questa è una cosa che a me colpisce molto. Cioè oggi pensare che la Shoah per una persona su 5 è come siamo in 5 qui, in studio vuol dire che teoricamente uno di noi non crede alla Shoah. Questa è una cosa secondo me veramente che mi farà, mi rabbrividisco solo a pensare a questa cosa e tra l'altro accade tra l'altro tra tanti giovani. Io credo che sia una questione di cultura, per quello io dico ci vuole, bisogna battere sulla cultura, sul far conoscere che cosa è successo, far conoscere i fatti della storia. Siamo tra l'altro in una fase molto delicata per cui gli interpreti, cioè coloro che hanno provato gli effetti devastanti per esempio della Shoah, pian piano, per l'età ovviamente, sono sempre meno e questo sarà un... dovremmo capire come continuare a raccontare quello che è successo. Lo dico perché proprio per i ragazzi, per i giovani, per conoscere che cosa è successo e per non replicare. Si dice che la storia a volte gira, no? Torna. Ecco, quelle cose lì è meglio diciamo, meglio veramente conoscerle, capire che cosa è successo, conoscere i fatti, conoscere veramente i fatti, perché non accadano più. Tra l'altro sui fatti, se mi permette quello che è successo a Pordenone, un piccolo commento sulla targa che è stata affissa in biblioteca sul giorno del ricordo, su Norma Cossetto, a cui io ripeto, forse mi è capitato già di dirlo qui, sono delle disgrazie sia ciò che è avvenuto per la Shoah, ma anche per le foibe, però appunto proprio per i fatti, tra l'altro è uno dei slogan dell'attuale maggioranza che andrà alle elezioni. Non ho apprezzato onestamente le modifiche della targa, cioè la frase per cui il Quirinale ha menzionato Norma Cossetto ha il valore al merito. Onestamente io ripeto, rimaniamo sui fatti, avrei preferito tenere quel tipo di, come originariamente è stata data la manzione dal Quirinale. Certo, concludendo, abbiamo veramente pochissimi secondi, ormai la domanda che sto facendo un po' a tutti gli ossi, soprattutto a quelli che andranno al voto, elezione, che saranno magari i candidati. Meglio votare tra qualche mese, cioè praticamente a maggio, oppure dire aspettiamo pandemia permettendo e sperando effettivamente che la vaccinazione faccia il proprio effetto e soprattutto anche questo virus possa autoflagellarsi un po' da soli e andare a settembre, a ottobre? Beh, allora dal punto di vista dell'organizzazione del partito, che sia a maggio o sia a settembre, a me come Partito Democratico non cambia nulla, nel senso continuerò a fare che sia a maggio sia a settembre e continueremo a lavorare sulle liste del programma. Io ho ascoltato poco fa qui il candidato sindaco Valerio Delle Fratte dire no, no, io voglio che si voti a maggio perché non voglio che l'amministrazione spenda i soldi nei prossimi mesi. Io onestamente, ecco, di fronte a una pandemia, di fronte a dei numeri che crescono, di fronte a tutto quello che viviamo oggi, sinceramente cercherei di fare meno polemica politica, farei un ragionamento più di salute e di ragionamento proprio di dare la possibilità di poter partecipare alla democrazia. Ci sono degli addempimenti che gioco forza, tipo la raccolta delle firme, potrebbero essere dei potenziali trasmettitori di virus, nel senso che dobbiamo andare a raccogliere le firme. Penso anche a una campagna elettorale sotto tono e onestamente per il Comune non lo trovo una cosa bella. Il Comune è il primo link che ha il cittadino, quindi il cittadino debba essere messo nella condizione di conoscere bene l'offerta politica. Secondo me con una campagna elettorale a giugno sarebbe una campagna molto, molto fiacca. E tra l'altro, lo dico invece per chi è candidato, non tutti hanno le competenze per poter fare una campagna elettorale online, ci vuole anche l'offline, ecco il contatto. Sì, quindi perciò io dico ragioniamo, l'invito è alla Regione perché la Regione ha la competenza per poter decidere. Penso che spostarlo a settembre, ottobre, quindi voglio dire due mesi, due o tre mesi sia un ragionamento di buon senso. Non sono un padre, ma di buon padre di famiglia, ecco, voglio dire il ragionamento così. Grazie, grazie a Marco Cavallaro, segretario del PD a Pordenone. Ci vediamo nei prossimi appuntamenti. Grazie dottore per essere stato con noi. Andiamo in Veneto con l'ospite e poi chiudiamo con Stefano Della Flora. Grazie con Giuseppe Boatto che è assessore comunale a Caule perché questa mattina c'è stata proprio la presentazione di app Caule Slow, insomma una nuova modalità funzionale per far conoscere anche grazie alla tecnologia un territorio che ha tanto da raccontare, assessore. Sì, l'abbiamo presentata questa mattina, è un'applicazione che parla dei percorsi ciclabili all'interno del nostro territorio, è un percorso di quasi 300 chilometri e l'abbiamo presentata alla stampa e a tutti gli operatori turistici. E questo è un qualcosa di straordinario che arriva proprio prima della stagione estiva nel nostro territorio, che non c'è mai stato e che ci permetterà di percorrere queste aree che vanno dal confine con Eraclea, quindi entrando anche nelle aziende di proprietà private come la Fagiana, come il gruppo generale con le sue piste ciclabili, con la riqualificazione di tutta l'area in cui una volta lavoravano la maggior parte delle persone residenti del territorio di Caorle, arrivando fino a oltrepassare il canale, la Caorle va nella zona della Brussa e quindi frequentare proprio tutta l'area della Brussa, di Valle Vecchia e questo è proprio importante perché c'è una sinergia tra il pubblico e il privato. Cioè sono tanti 300 chilometri. Sono tantissimi i 300 chilometri, ma se pensiamo che soltanto Valle Vecchia cosa possa offrire qualcuno non se ne rende conto, però sono tantissimi chilometri che si possono percorrere all'interno e solo il gruppo generale ha circa 40 chilometri di piste ciclabili all'interno. Sono numeri altissimi che quando non si conoscono non se li immagina, però veramente questa applicazione e non sarà finalizzata solo ed esclusivamente ai percorsi perché cliccando nell'applicazione si entrerà e qualcuno vorrà utilizzarla per andare a cenare, a pranzare. Certo, quindi sarà interattiva anche. Sì, sarà interattiva, sì. Ci saranno tantissime possibilità di inserire strada facendo anche iniziative diverse all'interno del territorio. Quando sarà pronta, Assessore? Allora, l'applicazione la stiamo definendo con le tracciature, le mappature dei percorsi e noi pensiamo che per fine maggio, massimo i primi di giugno, possa essere scaricabile da tutti quanti i nostri ospiti. In chiusura il turismo lento rappresenta un punto di forza un po' per tutta la costa veneziana ma è quello su cui si sta guardando con maggiore importanza. Noi l'abbiamo puntato proprio alla grande, nel senso che siamo convinti che questo ci possa allungare la stagionalità e soprattutto iniziarla prima, quindi nei mesi come adesso vediamo con queste splendide giornate, portare nel nostro territorio quella clientela nordica che con la bicicletta ne fa la padrona. Assolutamente, che apprezza tanto. L'app sarà solamente in lingua italiana o più lingue? No, 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 l'app avrà più lingue proprio per la tipologia di turismo che abbiamo noi nel nostro territorio, quindi sicuramente sarà nella lingua italiana, nella lingua inglese e probabilmente anche nella lingua tedesca. Grazie Giuseppe Boatto. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi, è stato con noi, Lina che può tornare a Pordenone. Saluto e ringrazio allora l'amico Stefano Della Flora, consigliere comunale per il Movimento 5 Stelle a Fontana Fredda. Io parlerei innanzitutto di scuola, no? Sì, buonasera, grazie dello spazio. Buonasera a casa. Sì, parliamo di scuola perché in questi giorni per sabato insomma è uscito sui nostri siti, sulle nostre pagine, la scuola di Fontana Fredda, l'istituto comprensivo Rita Levi Montalcini che ha usufruito di 20.000 euro per rifare una parte centrale dell'ingresso che era da manutenere e da sostituire i seramenti usando, e questo è un lato estremamente positivo del Movimento 5 Stelle, usando un bando messo a disposizione dal Movimento 5 Stelle che ha finanziato per 3 milioni di euro, non la scuola di Fontana Fredda, 3 milioni di euro in totale di bandi e Fontana Fredda è arrivata terza in regione grazie al progetto presentato da il dirigente scolastico che tra l'altro ringrazio e dall'amministrazione comunale che ringrazio perché senza la loro adesione al progetto non avrebbero potuto avere i soldi e quindi non ci sarebbero potuti fare i lavori, insomma in buona sostanza 20.000 euro che sono andati con il taglio degli stipendi dei nostri parlamentari e consiglieri regionali a finanziare questa manutenzione sulla scuola. In questo periodo dove la politica magari ha qualche ombra diciamo, ecco un partito o un movimento che comunque si taglia gli stipendi e comunque finanzia le scuole pubbliche italiane è comunque una gran bella cosa, significa mantenere le promesse. Non aveva anche un'altra... Sì sì perché nello stesso percorso, quindi sempre con il taglio degli stipendi, in questo caso dei consiglieri regionali del Friulenza Giulia del Movimento 5 Stelle, già l'anno scorso si erano acquistate 300 borracce con scritto FFG Plastic Free, quindi senza simboli di partito, senza niente e queste borracce sono state donate al Comune di Fontana Fredda per distribuirle durante la giornata ecologica che è a breve perché è il 20-21 marzo. L'anno scorso non si è fatta per motivi di Covid, quest'anno si farà e quindi quelle borracce che sono rimaste ferme in magazzino verranno date a ogni partecipante alla giornata ecologica. In questo caso è un piccolo gesto però è abbastanza significativo perché sa benissimo quante battaglie sono state fatte a Fontana Fredda sulle plastiche e quindi è un proseguire questo percorso che è anche educativo nei confronti dell'ambiente. Senta, sa che a me piace sempre più volare, di parlare magari di politica, non tanto quella regionale ma quella nazionale. Cosa sta succedendo in casa del Movimento 5 Stelle? Adesso c'è un fronte alternativo, la base diciamo, lo zoccolo duro forse è rimasto ma ci sono poi i cosiddetti dissidenti che stanno formando delle altre aree. Il Movimento 5 Stelle è che è in cerca di una nuova identità secondo lei? Beh allora voglio fare una premessa prima di dire tutto il resto perché se c'è un regolamento e c'è stato un voto degli iscritti che ha certificato che il sì al governo Draghi io fossi stato un deputato, un senatore mi sarei sentito in obbligo a prescindere da come la pensavo di votare di conseguenza. Quindi tutto il resto è sicuramente difficile da digerire perché io sono anche in difficoltà con me stesso. Io tra l'altro, ma lei penso che l'avrebbe già intuito, sono uno di quelli che ha votato no a questo governo e convintamente e tra l'altro ho ancora la stessa idea, però mi sono adeguato. Quelli che non si sono adeguati hanno anche le loro motivazioni ed è per questo che io sono un po' in difficoltà perché parliamoci chiaramente se il Presidente della Commissione Antimafia, voglio dire, il Presidente della Commissione Antimafia si rifiuta di votare un governo con Berlusconi, sentenze dell'Utri, finanziato dalla mafia, eccetera, eccetera. È difficile espellere uno che in teoria sta portando avanti i nostri principi. Quindi io personalmente, e non mi vorrei dilungare troppo, sono in estrema difficoltà perché è ovvio che questo passaggio in nome di una governabilità, di un momento eccezionale, di una pandemia, dei soldi che arrivano dall'Europa da spendere, l'appello del Presidente della Repubblica. Sì, tutto bene, però permettetemi di essere franco, io sono un po' in imbarazzo. Poi è chiaro che tutte le cose che porteremo a casa, spero che nel frattempo la comunicazione del Movimento Nazionale migliori, in modo tale che le persone quantomeno sappiano tutto quello che siamo riusciti a portare a casa o mantenere in questo periodo, perché è l'unico sistema per salvare, insomma, quello che è l'apparenza. Alla posizione di Stefano Della Flora resteranno i 5 Stelle, comunque vada. Allora, beh, innanzitutto io non ho nessun motivo per uscire al Movimento, perché io personalmente mi sento la coscienza a posto e io quello che ho detto di fare quando mi sono candidato a Futana Fredda lo sto facendo, quindi non ho nessun motivo per uscire. Per quanto riguarda il mio futuro, io devo essere anche onesto, in questo momento qui ci sono dei cambiamenti evidenti, sicuramente questo Movimento 5 Stelle non è il Movimento 5 Stelle delle origini, vorrei lasciare un po' di tempo per vedere come va, anche perché, ripeto, io ho ancora nelle orecchie le urla, gli spot, gli slogan, no? Siamo nati così, siamo nati con dei principi. Il partito del vaffa, dai, era questo. Ok, allora, io capisco, capisco tutto, capisco l'esigenza di governare, capisco che i voti servono anche per poter incidere, che dall'opposizione si incide sicuramente molto meno, però permettetemi di stare almeno dal punto di vista nazionale alla finestra, vedere come vanno le cose, vedere anche le prossime scelte della nostra classe dirigente verso che direzione andranno e dopodiché farò le mie valutazioni, pur restando orgoglioso di tutto quello che è stato fatto fino adesso, ci mancherebbe, questo non è un problema. Però, insomma, capisce che il momento, per chi è partito dall'inizio, il momento emotivo adesso è piuttosto importante. Senta, per chiudere, Marco Travaglio, lei lo conosce benissimo, è sicuramente sempre stato un giornalista a voi caro, perché, insomma, obiettivamente parlando, insomma, è nato con il fatto quotidiano e col fatto, insomma, quotidiano ha fatto tantissime iniziative di sostegno proprio alla classe del Movimento 5 Stelle. Beh, recentemente lui è uscito con toni molto duri nei vostri confronti, si è rotto le scatole anche lui, dai, ha detto ma come si fa? Avete, relativamente all'elezione del 2018, avete la maggioranza assoluta e vi siete accontentati di tre ministeri, quasi da andare a remosinare, quando per esempio a Forza Italia, che vale il 5-6%, beh, a Forza Italia ci sono dentro Brunetta, Gelmini e compagnia, la Carfagna e compagnia Briscola, no? Vi siete venduti al potere, è d'accordo con questa, con questa, con questa tesi del direttore del posto. Allora, innanzitutto Travaglio, quando c'era da darci delle belle botte, ce le ha date indistintamente, indistintamente da altri, perché io sinceramente riconosco un'unità intellettuale nel giornalista, a dire la verità. Dopo le dico che lei vuole proprio mettermi in difficoltà totale, quindi accettiamo tranquillamente anche questo, le devo dire la verità, io ho votato no a questo governo, sono attualmente perplesso, mi è stato spiegato in tutti i modi che lo si fa per andare a salvare i nostri provvedimenti, il reddito di cittadinanza, le leggi sulla giustizia, eccetera, 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 avere la sorvegliare che i soldi del recovery plan vadano dove devono andare, il nuovo ministero per la transizione ecologica, benissimo. Io, come dicevo prima, non mi sento di dare giudizi, perché già ero contrario all'inizio, quindi fosse stato per me un'opposizione in questo paese servirebbe e una bella opposizione servirebbe. Io sono sinceramente coerente con quello che si pensava all'inizio, non vedo differenze tra il Brunetta del 2008 e il Brunetta del 2021, quindi a me portate pazienza, io sto a guardare, chiaramente mi fido dei nostri che sono dentro e spero che insomma siano in grado di mantenere quello che abbiamo promesso ai cittadini, più di questo non posso dire... Grazie davvero l'amico Stefano Della Flora, consigliere comunale Fontana Fredda per il Movimento 5 Stelle, ci troveremo nei prossimi appuntamenti, chiudiamo con lui questa prima parte del telegiornale, seguire le previsioni del tempo, un breve break pubblicitario e poi tutte le altre notizie che arriveranno dalla redazione di Udine e da quella del Veneto. Rimanete con noi. Buonasera a tutti, situazione meteorologica caratterizzata da anticiclone, cielo sereno, atmosfera secca e molto mite in pianura in montagna, un po' più umida e meno mite invece sulla costa, domani quindi sereno, temperature massime 20-22 gradi in pianura, 14-18 invece sulla costa dove dalla sera potrà addensarsi qualche nebbia dal mare portata localmente verso la costa, probabilità comunque ancora media diciamo di questo fenomeno, zero termico al ben oltre i 3.000 metri e temperature molto elevate di giorno soprattutto in montagna. Venerdì ancora sereno, possibile qualche foschia o nebbia notturna su bassa pianura e costa, temperature massime in lieve diminuzione, sotto i 20 gradi in pianura, sempre intorno ai 15 sulla costa. Tempo buono, tutto sommato poco nuveloso in genere anche sabato e domenica, ancora con foschie banche di neve o qualche nube bassa, su bassa pianura e costa, temperature massime in calo soprattutto domenica quando il morino un po' più fresco porterà appunto un calo di diversi gradi nelle temperature massime, specialmente sulle zone orientali della costa in pianura. Direi che è tutto, una buona serata. Ben ritrovati gentili telespettatori dalla redazione di Udine a Gorizia e Trieste di Telepordenone. Nuova edizione del telegiornale che apriamo con tutti i servizi che riguardano le ultime 24 ore della nostra regione. Poco prima delle ore 18 della giornata di ieri, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo è intervenuta nel centro di Codroipo per un incidente stradale tra due autovetture. Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno provveduto ad aprire le porte bloccate di una delle due vetture convolte nell'incidente, utilizzando divaricatore e cesoia d'olio per raggiungere l'autista ferito al quale hanno prestato le prime cure applicando le tecniche di primo soccorso sanitario, in attesa dell'arrivo del personale del 118. In un secondo momento i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati e dell'area del sinistro. Le cause dell'incidente sono al vaglio della polizia locale di Codroipo. Lievemente ferite anche le due giovani occupanti della seconda vettura coinvolta nell'incidente. I feriti sono stati presi in carico dal personale sanitario del 118, giunto sul luogo dell'incidente con due ambulanze, una da Udine e una da San Vito al Tagliamento. Per tutta la durata dei soccorsi la strada è rimasta chiusa al traffico. Lo scorso fine settimana, nell'ambito di servizi programmati di contrasto al fenomeno del traffico illecito di animali d'affezione, una pattuglia della Polizia di Stato in località Villesse ha intimato l'Alt a un anonimo veicolo che percorreva l'autostrada A34 proveniente dalla Slovenia. Durante il controllo gli operatori hanno rinvenuto nel bagagliaio della vettura due contenitori in plastica adibiti al trasporto di cose modificati con dei fori sui coperchi, con all'interno sei cuccioli di cane barboncino toy e tre cuccioli di bulldog in precarie condizioni igieniche e privi di documenti relativi al trasporto, al possesso e alle vaccinazioni obbligatorie. I cagnolini, di un'età compresa tra le 4 e le 8 settimane, per cui quasi tutti con il divieto di viaggiare senza la madre, sono stati posti sotto sequestro sanitario e affidati a una struttura della zona specializzata per il recupero di animali in difficoltà. Il conducente, un cittadino italiano di 46 anni, è stato denunciato in stato di libertà per maltrattamento di animali alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia. Inoltre è stata contestata l'introduzione illegale nel territorio dello Stato di animali da compagnia, che prevede il pagamento di una sanzione che va da 500 e 1000 euro per ognuno dei nuovi cuccioli trasportati. La città di Gorizia è ancora profondamente scossa, dolorata, per la tragedia accaduta ieri in Congo, nel corso della quale un giovane carabiniero di Gorizia, l'editorio Iacovaci avrebbe compiuto 31 anni fra pochi giorni, a marzo, tra l'altro a marzo sarebbe anche rientrato dal Congo. Iacovaci ha sacrificato la sua vita, è un servitore dello Stato nel vero senso della parola, era consapevole dei rischi che correva. Abbiamo già testimoniato la vicinanza della città, prima con una mail, con una lettera al comandante generale dell'arma, ma anche al generale comandante dei carabinieri di Friuli Venezia Giulia. Stamane mi sono recato dal colonnello Cegli, comandante del XIII Regimento Carabinieri, insieme al prefetto per portare la nostra testimonianza, il nostro affetto, la nostra vicinanza a tutti i carabinieri. Altrettanto abbiamo fatto con una lettera alla famiglia. Mi metto solo nei panni di un genitore che riceve al mattino la telefonata da parte di qualcuno che gli dice tuo figlio, tua figlia è deceduto. È una cosa agghiacciante che fa letteralmente accaponare la pelle. Ho voluto portare perciò davvero la vicinanza della città. Abbiamo oggi, come la maggior parte dei comuni, mi auguro in tutta Italia, il suo invito del Presidente Nazionale Lanci. Le bandiere della nostra città sono a mezz'asta. Non appena sapremo quale sarà il giorno dell'esequio dei funerari del povero Vittorio, in quel giorno a Gorizia verrà ricordata questa tragedia, questa sua scomparsa con un lutto cittadino. Il XIII Regimento, che è davvero un regimento di grande eccellenza, ha già versato, ha già pagato un importante tributo di sangue nella partecipazione alle operazioni per il mantenimento della pace in tutto il mondo, pacekeeping. Ricordiamo tutti ai noi la tragedia in Siria, ma ricordiamo anche le perdite in Afghanistan. E ultima, in ordine di tempo, ieri, questo vile attentato, questo vile agguato, nel corso il quale, oltre alla perdita della vita del caro Vittorio, anche di un nostro ambassatore, uno tra i più giovani ambassatori. A loro va la riconoscenza, certamente, del paese, ma a loro va il grato pensiero e la vicinanza da parte di tutta la città di Gorizia. Sta per aver inizio la consegna della bandiera del Friuli nei comuni, per celebrare così la festa del 3 aprile. L'iniziativa è stata accolta con entusiasmo dalle amministrazioni locali, che potranno vestire a festa i propri comuni. L'iniziativa, promossa dall'Agenzia regionale per lingue furlane, ARLEF, è stata accolta con entusiasmo dalle amministrazioni locali, che il prossimo 3 aprile celebreranno così la festa dei patrie dal Friul. L'Agenzia regionale per la lingua friulana, nei mesi scorsi, aveva contattato tutti i comuni friulani, mettendosi a loro disposizione per la distribuzione del vessillo, ufficialmente riconosciuto con legge regionale, che porta in Campoazzurro la celebre aquila araldica d'oro con le ali spiegate. La risposta dei sindaci è stata molto positiva, ha sottolineato il presidente dell'ARLEF, Eros Cisilino. La macchina organizzativa è già in moto da un poi, a breve cominceremo con la distribuzione che terminerà in tempo per poter celebrare tutti insieme il prossimo 3 aprile, colorando di azzurro i luoghi simbolo della patria. La bandiera del Friuli è il settimo vessillo più antico d'Europa, risale al 1334. Per questa edizione del telegiornale è tutto, ringraziamento dalla redazione di Udine, a Gorizia e Trieste, di Telepordenone, va a voi per averci seguito, dopo una breve pausa per la pubblicità, linea al collega del Veneto. Un cordiale saluto dalla nostra redazione del Veneto. Continua l'informazione di Telepordenone, domani mattina il governo e le regioni si confronteranno in videoconferenza in vista del prossimo DPCM che andrà a sostituire quello attuale in scadenza il 5 di marzo. Il presidente Luca Zaya questa mattina in unità di crisi a Marghera è tornato a puntare forte su alcuni temi, ristori, una figura unica titolata a parlare di Covid e un minore scontro di opinioni tra esperti. E poi la partita dei vaccini perché ha detto ce ne sono pochi. Sul fronte invece dell'andamento del contagio l'incidenza continua a manifestarsi bassa. I positivi a fronte di 40.000 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 895. I ricoveri ospedalieri 1.379 in totale, di cui 132 in terapia intensiva. Oggi rispetto a ieri le persone uscite sono maggiori di quelle entrate nei nosocomi. Infine sul fronte dei decessi si viaggia verso le 10.000 unità. A pochi giorni di distanza dall'avvento del Covid e del primo anniversario dall'avvento del Covid le vittime sono 9.763, 21 nelle ultime 24 ore. Ma tra le richieste che il Veneto avanza al governo c'è anche quella relativa a una perequazione tra le misure di chiusura. Perché ce ne sono anche troppe di disparità, a dirlo il Presidente Luca Zaia. C'è un altro aspetto che è quello della perequazione delle misure. Se sei aperto a mezzogiorno, non si capisce per quale motivo, diventi un pericolo pubblico la sera. Sto parlando del ristorante. Se è vero che si possono adottare alcune misure diciamo di aggregazione rispetto alla comunità, è altrettanto vero che devi spiegare perché la palestra deve essere chiusa. Cosa vi sto dicendo? Che per ogni attività la comunità scientifica deve esprimersi in maniera puntuale. Perché abbiamo la chiesa aperta, altre attività chiuse, chiese chiuse e altre attività aperte. Capite che così c'è anche la logica, è difficile da capire come cittadini. E quindi non può esserci la logica del legittimo aggiustamento, ma deve esserci la logica del legittimo principio scientifico. Andiamo nella marca trevigiana, un'intera scuola chiusa con tutte le classi in quarantena e quanto succede a farla di soligo alla primaria Ancillotto dopo i tamponi effettuati in due classi terze dell'istituto. Dai test sono emerse infatti 16 positività tra gli alunni e un caso anche tra i docenti. I controlli sono scattati dopo che nel corso dell'ultimo weekend tra alunni e i docenti erano risultati positivi al tampone. Tre soggetti e un insegnante, tutti sintomatici. Considerato l'elevato numero di casi scontrati, è valutato l'andamento epidemiologico. L'azienda sanitaria ha posto precauzionalmente in quarantena tutte le classi del plesso scolastico. La regione sta intervenendo nella maniera più importante e decisiva possibile nella lotta alla pandemia. Oggi con Sonia Brescaccin, presidente della quinta commissione sanitaria regionale, è stato fatto il punto della situazione. Allora la sentiamo nel prossimo servizio. Sonia Brescaccin è presidente della quinta commissione sanitaria regionale, coronavirus che ha invertito un po' la tendenza nelle ultime ore. Ecco, come si sta cercando anche di intervenire? Il nostro sistema sanitario e la direzione col presidente Zaias in primi sono assolutamente sempre sul pezzo per gestire le situazioni. Certamente la ripresa dei contagi porta anche a delle preoccupazioni che aumentano rispetto a una cinquantina di giorni in cui avevamo avuto una forte decremento dei casi di positività e anche dei ospedalieri. Preoccupa il tema delle varianti che possono avere una maggiore aggressività, maggiore capacità di diffondersi tra la popolazione. Quindi sicuramente il nostro sistema sanitario è tutti i giorni sul pezzo per garantire al meglio la gestione dei casi. Certo, a noi cittadini, a tutti i cittadini va sempre ricordato di non abbassare della guardia, di stare sempre attenti perché comunque il virus non è andato via, ma vediamo che continua a diffondersi tra la popolazione. Oggi a Portoguaro si inaugura un tassello importante per il nosocome, una nuova piastra ambulatoriale. Si parla di sanità in Veneto orientale che ha due presidi importanti, Portoguaro stesso e San Donà, oltre ad un litorale. Quale può essere il futuro secondo lei di quest'area? Sicuramente un futuro molto importante. Il dottor Bramezza insieme alla direzione strategica e insieme a tutti i medici ha sviluppato in modo significativo i servizi ospedalieri territoriali di questa ULS. Oggi quindi si dà un nuovo impulso anche a una capacità attrattiva da fuori, da cittadini di fuori di questo territorio, di queste ULS. Questo è significativo del fatto che i servizi ospedalieri attraggono, sono positivi e i cittadini si rivolgono ad essi con assoluta fiducia nel tipo di presa in carico, di sicurezza di prestazione che viene garantita e quindi di qualità delle cure. Quindi certamente avrà grande impulso a questa ULS e a tutti i servizi ospedalieri che insistono in essa e ai servizi territoriali. Ospedale di Portoguaro che diventa sempre più strategico anche per la vicinanza con il Friuli Venezia Giulia. Certamente, sicuramente sono stati fatti anche nuovi investimenti, nuove riorganizzazioni, una riqualificazione, un ammodernamento. È stato dotato l'ospedale del robot da Vinci. Quindi c'è una specializzazione anche per quanto riguarda tutta l'area chirurgica che diventa assolutamente attraente. Doppia truffa scoperta invece dai carabinieri di Treviso. Un quarantenne di Latina è stato denunciato dopo aver indotto mediante raggiri una ragazza di 30 anni ad accreditargli sul conto corrente una somma di 250 euro come pagamento per l'acquisto di una telecamera senza mai consegnare quanto concordato. Nei guai è finito anche un napoletano, 57 anni, che aveva creato un sito internet nel quale proponeva polizze assicurative a cifre molto vantaggiose. Anche il soggetto, secondo le indagini, avrebbe indotto un cittadino turco a pagargli oltre 700 euro su carta prepagata rendendosi poi irreperibile. Ad Altivole, sempre nel Trevisiano, i carabinieri hanno invece dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare di collocamento in comunità nei confronti di una 17enne di nazionalità marochina che in concorso con un 24enne avrebbe messo in atto tre rapine a gravate tra i mesi di gennaio e agosto del 2020 ai danni di altrettante vittime minorenni. Con percosse sotto la minaccia di un coltello, la coppia sarebbe riuscita ad asportare somme di denaro dalle loro vittime. Nuova piastra ambulatoriale all'ospedale di Porto Gruaro, ultimati i lavori al piano terra per la nuova area dedicata alla gastroenterologia e all'Otorino la ringoiatria. In una superficie di 250 metri quadrati con accesso adiacente al cup sono stati realizzati ambulatori, una sala endoscopica, servizi igienici per l'utenza e una zona d'attesa. L'intervento è stato realizzato grazie a un investimento di oltre un milione di euro. Questa mattina il taglio del nastro nel 2019, prima dell'avvento del Covid, la gastroenterologia di Porto Gruaro ha erogato oltre 2.500 esami endoscopici, di cui 1.500 colonoscopie e circa 200 visite. Sul fronte dell'Otorino la ringoiatria, invece le prestazioni sono state 9.600. A queste si aggiungono 1.300 prestazioni ambulatoriali da pronto soccorso. Il ruolo del presidio ospedaliero dunque assume ancora più valenza nei confronti. Questo è anche l'obiettivo delle cosiddette fughe verso le regioni limitrofe. Oggi è presente anche Carlo Bramezza, commissario dell'Ulss4, nell'ultima uscita all'ospedale di Porto Gruaro, vista la scadenza del mandato. E proprio di questo abbiamo parlato con ormai ex direttore generale dell'Ulss. Che bilancio si sente di fare al termine di questo mandato importante in una zona del Veneto altrettanto importante come questa? 8 anni fa quando sono arrivato la grande sfida di questo territorio erano le fughe, cioè i cittadini andavano a curarsi in altre Ulss o in regione Friuli. Il lavoro che abbiamo fatto ricostituendo le unità operative di questo ospedale di Porto Gruaro ma anche di San Donaio e di Iesolo facendo tanti investimenti tecnologici portando qua tanti bravi professionisti è stato quello che in 8 anni abbiamo recuperato tutta la fuga che avevamo prima verso il Friuli. Fuga vuol dire tanti soldi anche da un punto di vista economico abbiamo recuperato solo verso il Friuli 17 milioni di euro all'anno che quindi abbiamo potuto dedicare gli investimenti a fare di questo ospedale veramente un fiore l'occhiello della nostra sanità. Il suo futuro ancora non è deciso? No, non lo so ancora, lo deciderà il Presidente nelle prossime ore, sicuramente per me sono stati 8 anni, sono arrivato qua a 45 anni, ne esco a 53, sicuramente molto più stanco ma molto rafforzato da un punto di vista umano, dal punto di vista professionale e soprattutto la soddisfazione di aver contribuito a costruire una grande squadra di professionisti che nei prossimi anni saprà rendere veramente al massimo il loro impegno, la loro capacità in questo territorio. Restiamo a Porto Gruaro, sta meglio il 22enne colpito da un tronco in un incidente accaduto nei giorni scorsi all'ospedale vecchio. Sta decisamente meglio il giovane di 22 anni colpito pochi giorni fa in un cantiere da un tronco durante gli interventi per la nuova residenza assistita di Piazza Santo Maso dei Battuti. Infatti si stanno eseguendo i lavori per rimodernare il nuovo ospedale che verrà trasformato da una società francese in residenza assistita e ricaverà da esso anche alcuni appartamenti per le persone più disagiate, piccoli monolocali o locali a bilocale. L'uomo sta abbastanza bene, ha ricevuto questo colpo mentre stava procedendo al taglio di alcuni rami dagli alberi che si trovano all'interno dell'area di pertinenza del cantiere. Sul posto per fare luce il SUM 118 e l'ospisal. Ed è trascorso quasi un anno dalla presentazione del progetto Eurofeo Life per la valorizzazione dei palù del Piave. Andiamo nel Trevigiano, un'area ricca di biodiversità costituita da un complesso di mosaico di prati umidi, siepi e canali la cui conservazione è minacciata dall'abbandono e dall'avanzare dell'agricoltura intensiva. Veneto Agricoltura stesso comunica come il progetto sia ancora in forte avanzamento e insomma fa sapere che se ne parlerà anche nel corso di un'apposita piattaforma virtuale con tutti gli enti coinvolti per cercare insomma di continuare a valorizzare un'area così importante per il territorio. Nel Bellunese invece il servizio tecnico messo a punto dall'Agenzia regionale rappresenta un contributo alle necessità di consulenza delle piccole realtà casearie della zona. L'attività di trasformazione nelle aree di montagna legata soprattutto alle piccole attività produttive rappresenta un importante contributo al presidio del territorio nonché alla salvaguardia, alla trasmissione di saperi e ciapori tradizionali. Essere al passo con l'evoluzione tecnologica dice Veneto Agricoltura ottemperare le richieste del mercato ma anche mantenere un alto livello di qualità e rispondere alle giuste esigenze di sicurezza alimentare richiede da parte del produttore un aggiornamento costante che non sempre si riesce a sostenere. Grazie per averci seguito, con questo è davvero tutto, vi lascio le nostre previsioni del tempo, buon proseguimento con la nostra programmazione e ci si rivede con la prossima ovviamente realtà informativa di Teleportione. Grazie, arrivederci. Giovedì 25, cielo sereno o poco nuvoloso, nebbie sparse a sud dell'asse Verona-Venezia e locali sul resto della pianura fino al primo mattino e di sera. Precipitazioni assenti, temperature simile a mercoledì. Venti sulla pianura nella prima metà di giornata da moderati a deboli da ovest, dal pomeriggio deboli con direzione variabile, sui monti deboli moderati con direzione variabile nelle valli a sud-ovest in quota, mare calmo.